Pochi giorni alla fine di settembre, Presidente, è tempo di bilanci per quanto riguarda l'estate per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, numeri sicuramente positivi? Numeri positivi, incoraggianti per alcuni versi esaltanti, siamo tornati ai ritmi e ai numeri di due anni fa pre-pandemia, abbiamo avuto qualche volo in più, qualche destinazione in più e anche qualche buona politica di incoming su determinate rotte, principalmente dall'est Europa, quali Cracovia, Varsavia, Bucarest e Praga. Anche il mese di settembre si sta confermando un mese propizio per lo scalo aeroportuale di Pescara? Anche qui numeri importanti, abbiamo già ottenuto un piccolo obiettivo grazie a Reiner che ci ha aggiunto una frequenza sul volo di Dusseldorf-Wizzi e sul volo di Bucarest, quest'ultimo tra l'altro, oltre ad avere buoni numeri di incoming, ha anche ottimi numeri di riempimento anche a settembre e sarà definitivo il terzo volo per tutta la stagione autunno-inverno. Siamo alle porte dell'autunno, ovviamente si guarda in prospettiva alla stagione invernale e anche al periodo natalizio, ci sono già delle novità, qualcosa che ci può anticipare Presidente? Beh, oltre alle quattro frequenze in più da Reiner su quattro destinazioni, dal 16 ottobre con la nuova governance ITA, quindi dal passaggio dall'Italia ad ITA, avremo una modifica sull'orario del volo, passiamo dalla mattina partenza, sera ritorno, passiamo al volo pomeridiano sia in partenza che in arrivo. Come tutti i cambiamenti ci sono contenti e scontenti, io dico di valutarlo con il tempo e con i numeri, in questo momento credo che l'aeroporto d'Abruzzo ha un'opportunità in più perché comunque il collegamento con la Lombardia su Bergamo-Orio-Alserio rimarrà sia la mattina che la sera, dal 16 ottobre avremo anche la possibilità nel pomeriggio. Sul fronte dell'emergenza sanitaria per chiudere grossi problemi non ce ne sono stati controlli, sono stati costanti all'arrivo e alla partenza dei passeggeri. Noi abbiamo temperato rapidamente un'ordinanza della regione Abruzzo che tutt'oggi consente a chi scende dagli aerei provenienti da Londra, Girona e Malta per effettuare un tampone molecolare, tranne i primissimi giorni per questioni logistiche abbiamo avuto qualche problema e ce ne scusiamo con qualche passeggero, da due o tre mesi a questa parte andiamo molto fluidi e gli orari di permanenza all'interno della struttura aeroportuale sono molto bassi.